Siamo qui con Tobia Pezzati, che oggi ha vinto la gara in categoria HL, ma non è di questo che vogliamo parlare, perché Tobia è anche stato eletto miglior sportivo ticinese dell'anno. Tobia, cosa ci puoi dire su questo risultato? Insomma, te l'aspettavi? Ma in realtà pensavo sarebbe stato difficile, anche se col sostegno di tutti gli orientisti e molte altre persone ero davanti nel voto del pubblico, però so che dopo è sempre difficile rimanere davanti e anche gli altri sportivi sono sicuramente molto forti. Sì, come l'anno scorso, una vittoria quasi sfiorata. Insomma, sicuramente non sono stati solo orientisti a votarti, il che significa che la corsa d'orientamento sta iniziando a diffondersi un po' di più. Cosa dici? Sì, sicuramente in Ticino, come in tutta la Svizzera, penso che pian piano chiunque conosca, se gli parli di corsa d'orientamento sa di cosa si parla e non è più una parola sconosciuta. Quindi sicuramente anche con i progetti di CO nelle scuole così si sta portando avanti lo sport bene. Esatto. E ora un'ultima domanda su quello che fai attualmente. Attualmente sei alla scuola reclute, giusto? Sì, esatto. Sono Alice per Sportivi dell'IT. E com'è? All'inizio è stato tosto, visto che non si dormiva così tanto, mentre a partire da questa settimana va già un po' meglio. e riusciamo ad andare al pomeriggio a allenarci e negli ultimi giorni anche l'orario ha funzionato piuttosto bene. Bene Tomia, grazie mille per le tue impressioni e alla prossima. Grazie, ciao.